Laboratori creativi, artistici e manuali, giochi, sport adattati in grado di privilegiare il senso di squadra, interventi di esperti sulle tematiche legate alla disabilità. ESRC 2024 torna anche quest'anno con il coinvolgimento di 15 nuclei familiari. Abbiamo più un 20% di adesioni, quindi abbiamo 15 nuclei familiari con 30 soggetti, che sono per lo più il 70% ragazzi con disabilità, che collaboreranno in un progetto molto ambizioso, la costruzione di un librettino in linguaggio aumentativo su un tema molto chiaro, che è quello del cambiamento climatico, proposto dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Una grande risposta, anche perché quest'anno molti centri estivi sono in estima difficoltà ad accogliere ragazzi con disabilità, non per non volerli accogliere, ma perché c'è una carenza di educatori e quindi questo rappresenta per le famiglie davvero un grosso problema. Quindi noi diamo una risposta, essendo strutturati solo con educatori che nel tempo hanno acquisito competenze per la disabilità, di dare una risposta proprio effettiva a questo bisogno. Praticamente nel maneggio della scuderia PAN, insieme a tutte le attività della scuderia, c'è sempre l'integrazione con bambini e ragazzi con disabilità, sia per l'autostima, per la gestione del cavallo, aiuta tanto, sia che salgono che non salgono in sella, perché magari alcuni sono tranquillissimi, proprio hanno la voglia di montare a cavallo, altri invece gli fa piacere solo stare lì, accudirli, farli mangiare l'erba, accarezzarli, però non se la sentono di montare e quello non è obbligatorio. L'importante è che loro stiano bene e che si sentano bene, si socializzino con gli altri ragazzi, perché anche questo vuol dire tanto. Diciamo che è molto importante perché si dà l'opportunità di un momento di svago e nel periodo estivo, quando magari altri centri proprio specifici con ragazzi con disabilità magari possono essere chiusi, c'è questo momento in cui loro possono avere delle vacanze, fare attività come tutti gli altri bambini dei campi estivi. E infatti una cosa molto importante è l'inclusione che vengono fatti insieme a tutti gli altri, anche se loro hanno magari operatori specifici che li seguono, però il gruppo è sempre lo stesso, il luogo uguale.